Buongiorno, io sono Tommaso Berini, in questo tutorial vi mostrerò come è possibile realizzare una casa schiera, è un tutorial questo rivolto a utenti che hanno appena iniziato a usare Rhinoceros e vi si darà una guida da seguire passo passo per la realizzazione di questa esercitazione che è pensata per farvi impratichire sulla possibilità di modellare nello spazio con il software Rhinoceros. Il dato di partenza ovviamente è quello che prevede la utilizzazione di misure metriche che debbano essere fornite all'utente che vuole costruire questa casa schiera, io in questo caso queste indicazioni le ho realizzate con Rhinoceros ma possono essere fornite benissimo su un supporto cartaceo o in altro modo. Allora vediamo che cosa è la partenza, questi sono i dati di partenza del mio progetto, in base a questi dati conoscitivi posso arrivare a realizzare in 3D una casa schiera. Visualizziamoli in modo un po' più significativo. Massimizziamo la vista superiore, togliamoci di mezzo anche la griglia che in questo momento ci dà noia, andiamo su file, proprietà, quando si è aperto il pannello proprietà andiamo su griglia ed eliminiamo la griglia e gli assi. Ingrandiamo. Se vogliamo far vedere meglio le parti sezionate possiamo anche visualizzarle con un segno più spesso. Per fare ciò noi possiamo usare il comando underscore print display, basta iniziare a digitare la parola che il software riconosce dalle varie opzioni e quindi poi sceglierla. Allora visualizzazione stampa, stato on, mettiamo off, commuta, qui avevamo in precedenza di default 40, mettiamo 60, così è il tratto più spesso invio. Ora riaccendiamo gli altri. Ecco, vedete che se vediamo da vicino si nota che il vi è uno spessore maggiore riservato alla sezione muraria. Bene, questi sono i dati di partenza che vengono forniti all'utente. Si tratta delle piante ai vari livelli, come è possibile vedere, della pianta delle coperture, dei prospetti laterali destro e sinistro, del prospetto, in questo caso sul cortile, di una sezione significativa operata proprio sulla scala per far vedere qual è la struttura di questo edificio, il muro di cinta posteriore e il prospetto frontale. Bene, questa è una informazione che può essere anche fornita su un foglio di carta. Da qui partiamo per arrivare a modellare in 3D il nostro oggetto. Riportiamo la vista alle quattro viste convenzionali. Io normalmente preferisco lavorare con una vista di tipo isometrico, quindi non con una vista di tipo prospettico, perché credo che nel disegno tecnico sia più utile lavorare in questa modalità. Allora, iniziamo a definire il contorno esterno dell'edificio, in pianta, è la pianta del piano terra, poi aggiungiamo le tramezzature interne, c'è qui anche un'indicazione della scala, e poi il muro del cortile. Da notare che la selezione di questi elementi e anche la divisione su layer diversi dipende dal fatto che quando procederò con la estrusione, io intendo estrudere la parete esterna in una fase unitaria, tutti i tramezzi, anch'essi tutti insieme, e il muro posteriore, e cioè una divisione che è funzionale alla operatività successiva. Quindi, se lo vediamo in vista assonometrica, abbiamo questo tipo di realtà. Al piano superiore possiamo costruire la pianta del piano superiore, sempre con la divisione della parte esterna e di quella interna. Questa ripetizione del muro esterno non servirebbe a rigore, lo faccio solo per chiarezza grafica, perché l'estrusione partirà dal basso e coinvolgerà in un'unica operazione tutti i livelli. Salire ancora di un piano, per avere il piano ancora superiore, ancora uno, e infine la pianta delle coperture. In questo modo è possibile avere una visione di tutta quella che è la realtà stratigrafica, possiamo dire, dei vari livelli di questo edificio. Una volta costruiti i vari livelli, possiamo provare a costruire i fronti, o laterali, o ulteriori e posteriori e le sezioni. Ciò che ci è fornito appunto dai dati iniziali. Abbiamo il fronte laterale sinistro, quello destro, il prospetto anteriore, la sezione. L'ho evidenziata con un colore diverso perché è altamente significativa e quindi il rosso ce la fa vedere meglio. Il prospetto posteriore e infine il muro di fondo. Quando si è costruita tutta questa scatola, è una sorta di wireframe che ci dà la possibilità di comprendere come funziona l'edificio. Si procede oltre con la modellazione, attraverso estrusione, del solido 3D vero e proprio. Però poniamo un attimo attenzione ad alcuni particolari. In modo particolare vorrei richiamare la vostra attenzione, cancello un attimo tutte queste cose che abbiamo fatto. Lasciamo solo il piano terra, potrebbe essere utile... La sezione sulla scala. Allora, se mettiamo in vista frontale... In vista frontale, come costruiamo questa scala? Probabilmente il modo più rapido per costruire questa scala è di realizzare una sorta di griglia di supporto in cui siano specificati bene i rapporti tra alzata e pedata. Sapete, penso che il rapporto tra alzata e pedata è regolato dalla legge 2A più P uguale 63 cm dove A sta per alzata e P sta per pedata e quindi per ottenere il rapporto reciproco tra alzata e pedata si può applicare questa formuletta che in questo caso è stata usata. I solai sono ad altezza di 3 metri l'uno dall'altro, lo spessore è di 30 cm, quindi l'interasse è libero di 2,70 cm. L'ultimo piano ovviamente dipende dalle falde del tetto. Ecco, una volta costruito questo grigliato, questo grigliato si usa proprio per tirare fuori la scala. Queste scale sono tutte uguali, meno che quella del piano terra che presenta una minima differenza in quanto su questa si va a inserire questa parete trasversale che quindi modifica leggermente l'andamento della scala. Chiudiamo questa vista e ritorniamo alle 4 viste. Potrebbe esserci utile, vediamo un po', rimettere una vista laterale che dovrebbe essere, vediamo, ecco questa per esempio. E iniziamo a tirare su il nostro edificio. Andiamo in vista parallela. Allora, prima di procedere con le istrusioni, però, una parola su come ho costruito questi disegni ai vari livelli che vi ho fatto vedere poc'anzi. Li ho costruiti ponendo attenzione a una cosa, ovvero a spostare di volta in volta il centro, il piano di costruzione e la vista. Vi faccio vedere. Allora, se qui io vado a fare modifica viste con nome, escono fuori tutta una serie di viste che ho salvato in precedenza. E se vado a vedere visualizza, imposta piano C, piano C con nome, escono fuori tutti quanti i piano C come li ho impostati. Allora, a cosa mi serve fare questo tipo di operazione? Beh, a lavorare in modo più pulito. Qui l'esempio è estremamente banale, facile. Tuttavia, in altri casi più complessi potrebbe essere utile imparare ad adottare questa metodologia. Qui abbiamo, non so, il piano terra, no? Il piano terra, come lo costruisco? Ecco, beh, con una vista dall'alto e l'origine degli assi la metto in questo punto che viene indicato dal cursore, ovvero all'angolo. Allora, se io richiamo questa vista, ecco, si vede subito che la vista di scelta è una vista dall'alto. Allora, proviamo un attimino a far capire meglio in posta vista. Vediamo isometrica su destra, ad esempio. Allora, si capisce anche, vedendo il colore degli assi della terna di riferimento, che l'origine degli assi è posta in questo punto e che il piano di costruzione è orizzontale. Questa vista è associata a questo piano di lavoro, che è appunto questo. Quando si salva una vista, si salva la vista, ma si salva anche il piano di lavoro corrente nel momento in cui si opera quella determinata vista. Ad esempio, riapro un attimo il piano superiore. Se io vado, voglio creare questo piano qua superiore, il primo piano. Non lo disegnerò tenendo questo tipo di vista, ma avrò impostato prima una vista, questa nello specifico, che mi dà la possibilità di lavorare direttamente alla quota per scelta. A questo tipo di vista, infatti, ho associato un piano di lavoro che è all'altezza del primo piano. Vediamo un attimo cosa succede se vado su Imposta vista, vista isometrica, sud-est. Ecco, vedete dagli assi che l'origine del sistema di assi e il piano di griglia si è spostato da questo livello a quello superiore. E così via per tutti gli altri. È molto importante riuscire a gestire lo spostamento delle viste e dei piani di lavoro. Ribadisco, questo è un caso banale, ma in casi in cui la complessità dell'esercizio è maggiore, questa capacità ci consente di gestire al meglio un modello tridimensionale. Se volessi, ad esempio, impostare la vista sulla sezione, io ho salvato già questo tipo di vista, avrei qui la vista frontale che è stata scelta e memorizzata, ma è cambiato anche l'orientamento del piano di lavoro. Quindi, se lo vado a vedere, ecco, vedete il piano di lavoro si è messo verticalmente e l'origine degli assi coincide sempre con lo stesso punto di prima, ma gli assi sono disposti in modo tale che se disegni il lavoro disegno su questo piano verticale. La stessa cosa potrei dire per il piano laterale e così via. Quindi è molto importante tenere conto di questi aspetti che, ripeto, servono a gestire in modo corretto la geometria nello spazio di un progetto. Allora, adesso possiamo invece impostare una vista di tipo assonometrico e procediamo con le estrusioni. Ritogliamo questo che non ci serve. Allora, in primo luogo, in un'unica estrusione, estruderò tutta la base che comprende il solaio del piano terra, diciamo anche un pezzettino di marciapiede qui antistante a questo solaio, poiché con la sezione ci sono arrivato, e anche la zona giardino. La estrusione è semplice perché si estrude il bordo, in questo caso di 30 cm verso il basso. Nella realizzazione di questo modello, procederò costruendo prima i tramezzi interni con i relativi solai e le scale, e poi salendo via via fino al colmo del tetto, per poi alla fine unitariamente estrudere le pareti esterne, inserire le bucature e quindi concludere il modello. È un modus operandi che deriva dalla necessità di estrudere con altezze diverse i solai e le pareti interne, che devono tener conto dello spessore dei solai, e invece della possibilità di fare un'unica estrusione dal basso verso l'alto per le pareti di bordo. Vediamo come procedere allora. In primo luogo estrudo il muro di confine della corte interna. Procedo poi con i tramezzi del primo piano. Adesso devo prevedere le bucature, quindi le bucature che poi sono... Adesso questi li possiamo spegnere perché abbiamo capito a cosa servono. Le bucature le si disegna, poi si estrudono per quel che concerne lo spessore dei singoli muri, fin tanto che poi con una sottrazione buleana si arriva a ottenere la parete bucata. Procediamo poi con la scala. In questo caso, come vi dicevo, la scala tiene conto del fatto che in questo punto specifico c'è questo pezzo di tramezzo che si inserisce su diese, quindi presenta un dente che nelle altre scale non c'è. Ciò fatto, proseguiamo con il piano superiore, ecco, ingrandiamo un attimo, spostiamocela un po'. Ecco. Inseriamo il solaio del primo piano e andiamo su con la stessa modalità. secondo piano, tramezzi, bucature, quindi porte e sottrazione buleana per ottenere i tramezzi bucati dove sono le porte. Poi aggiungiamo la scala, il solaio superiore e andiamo così fino alla fine, insomma. Ecco. In questo caso anche abbiamo fatto il piano superiore. Mettiamo anche in questo caso la scala, il solaio. Ora ci troviamo all'ultimo piano con un problema, nel senso che in questo caso il solaio a chiusura non è orizzontale, ma è a doppia falda. Quindi dobbiamo costruire prima il tetto, dopodiché l'estrusione del tetto, estrudere normalmente i tramezzi interni e poi buttare la parte che supera l'altezza del tetto. Procediamo. Questa è la parte interna di questa estrusione. La falda del tetto però arriverà anche un po' più esterna, perché ho dato lo stesso spessore dei solari inferiori, ma solo una parte sopravanza il muro, che estruderò poi tutto insieme, in quanto protegge tutto l'edificio. Questi due elementi vengono poi uniti in un unico elemento, perché è un unico solaio di copertura. Dopodiché posso procedere con la creazione del tramezzo dell'ultimo piano, che sarà costruito senza tener conto di questa falda inclinata. Sarà un'estrusione superiore a quella della falda, o uguale, ma non inferiore. Quindi si procederà con una sottrazione booleana e il risultato finale sarà questo, ovvero si otterrà un solido che prevede la parte superiore staccata, che non ci serve. La possiamo buttare e quindi rimaniamo con i tramezzi dell'ultimo piano dell'altezza desiderata. A questo punto, come abbiamo fatto per gli altri esempi, procediamo con le bucature interne, con le porte, e otteniamo anche l'ultimo piano. Rimettiamo il solaio di copertura. Da notare che quando si opera una sottrazione booleana, l'elemento utilizzato per la sottrazione viene perso. Quindi, poiché questo elemento l'avevamo già costruito, è bene sempre farsi una copia da poter riutilizzare successivamente, come ho fatto io. Ora, pensiamo invece all'estrusione unica di tutto il corpo esterno. Anche in questo caso, estrudiamo più di quello che è necessario, arrivo a livello del colmo, e poi taglio, come ho fatto in precedenza. Quindi, il risultato sarà un risultato che prevederà, ecco, si può vedere meglio, forse qua così, è più stretto qui. Ecco, ingrandiamo la separazione delle parti di sotto e di sopra. Quella di sopra non ci serve e quindi la buttiamo. Riapplichiamo le bucature che sono dovute alle finestre, per sottrazione booleana, anche in questo caso possiamo arrivare poi, come abbiamo fatto nel caso precedente, a ottenere finalmente l'involucro esterno e interno di questo edificio. Ripropongo il tetto un'altra volta. Ecco, ora possiamo dire che questo edificio è sostanzialmente finito. Se volessi in una modellazione più accurata tenere conto anche delle finestre con il loro spessore, beh, allora a questo punto dovrei modellare gli infissi delle finestre e delle porte da parte, e dopodiché farne tante copie quante sono necessarie e inserirle nel modello, sostanzialmente è una cosa banale. Vediamo come si fa. Spegniamo queste cose che non ci servono ora. e procediamo poi alla modellazione degli infissi che inseriremo nel nostro modello. Allora, questo, bene, andiamo sulla vista frontale, superiore, anzi non frontale, superiore, ingrandiamo il tutto, bene, ecco, questo è impianta in prospetto, io li ho messi su una vista dall'alto, lo schema degli infissi utilizzati, si tratta di una porta di questo tipo che può avere anche una mazzetta di maggiore spessore in corrispondenza dei muri portanti, sono tutte uguali queste porte, cambia solo lo spessore della mazzetta a seconda che siano su tramezzi o su muri portanti, vi è solo una porta diversa da tutte le altre, che è quella che si trova nel sottoscala del piano terra, perché altrimenti una porta di questo tipo sbatterebbe contro la rampa inclinata della scala e quindi deve essere addoppiata. Per la finestra si è pensato a una finestra che preveda una persiana esterna e un infisso interno. Bene, se noi con delle semplici operazioni di estrusione andiamo a realizzare questi infissi da un punto di vista tridimensionale, otteniamo questo risultato, risultato che ci consente poi di applicare nel modello che abbiamo costruito in precedenza, gli infissi medesimi, si fa copia di ogni oggetto e si applica nei punti in cui si serve, quindi si ottiene questo tipo di modello che una volta completato risulta essere di questo tipo. E questo è un tipo di esercitazione che può essere utile, ripeto, per persone che sono agli inizi del proprio approccio con Rhinoceros e che quindi debbono impratichirsi con l'uso di comandi di tipo elementare. La cosa che ritengo essere tra le più importanti di questo tipo di reazione è quella della capacità di gestire le viste associate ai piani di lavoro. Se queste viste associate ai rispettivi piani di lavoro vengono salvate e si impara questa metodologia si ottiene un miglioramento delle proprie capacità di modellazione 3D. Grazie a tutto, buona giornata. Grazie a tutti.